Il radar indica che sono qui dentro Beh, e chi diamine è quel ragazzo? Oh no, ha le sfere del drago Ma cosa? Non c'è dubbio, sono qui per forza Quel pollastro ha portato qui le sue uova per la frittata Come? Pollastro? Dove non lo vedo? Portiamogli subito via le sfere Certo, certo, ottima idea Pollastro? C'è aperto Scusate, posso entrare? Visto che ti sei intrufolato nella mia villa Ti cucinerò come meglio credo Evviva! Urra! 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 Oh no, guarda cosa ha combinato Spero che non me le facciano pagare Qualcuno mi spiega cos'è successo? Sicuro che il suo sistema di difesa venga controllato periodicamente Sentito, avete controllato? Beh, no Buone a nulla Se non controllate le armi va a finire che non funzionano Proprio quando ne abbiamo bisogno Sì, scusi signore E va bene Vorrà dire che lo faremo venire in questa stanza E quindi lo costringeremo a consegnarci le sfere del drago Ormai sono vicinissime Benvenuto figliolo dal momento che ti sei azzardato ad entrare Ti consiglio caldamente di consegnarci subito le sfere del drago, mammoletta E gira i tacchi se ci tieni alla pelle Sì, ti riconosco, sei da il paio E tu chi sei? Come, non ti ricordi? Sono io, sono Goku Davvero? Tu sei Goku? Sei sempre stato un birichino Ma è comunque un piacere rivederti Che faccio adesso? Ciao